Polonia, 1944. In un campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale, un ragazzo di origini ebraiche di nome Erik Lenscher viene separato violentemente dai suoi familiari. Si tratta di un mutante e la sua collera arriverà a contorcere il cancello di metallo che lo separa dalla madre, trascinata all'interno del campo. Erik, disperato, è trattenuto dai soldati nazisti. Circa 60 anni dopo, una ragazza di nome Marie conduce una vita serena e, nell'intimità della sua stanza, scambia il suo primo bacio con il suo ragazzo. Si scopre che anche essa è una mutante, quando il ragazzo rimane quasi ucciso dopo aver toccato le sue labbra. Spaventata per l'accaduto, decide di fuggire. A Washington, durante un congresso, il senatore Robert Kelly cerca di far passare la legge sulla registrazione dei mutanti, facendo notare quanto questi siano pericolosi per la civiltà, potendo rimanere nascosti. Nonostante il parere contrario della dottoressa Jean Grey, la popolazione sembra supportarlo. A tale confronto presenzia anche un ormai anziano, Erik Lenscher, il quale viene avvicinato dal professor Charles Xavier, che scopriamo essere suo vecchio amico e che tenta a discoraggiarlo dall'iniziare una guerra tra mutanti e umani. Ma Lenscher, memore delle persecuzioni da lui subite dai nazisti verso gli ebrei, teme il ripetersi di una situazione analoga verso i mutanti, ragion per cui rimane fermo nelle sue convinzioni sull'innescare un conflitto. Intanto Marie arriva in Canada, dove incontra in un bar l'ambiguo e solitario Logan, un mutante con capacità rigenerative e di far emergere degli artigli dalle proprie mani che, negli incontri di lotta clandestini a cui partecipa, viene soprannominato Wolverine. I due fanno amicizia, ma vengono fermati da un energumeno di nome Sabertooth, che attacca Logan con cui sembra condividere alcuni poteri. L'arrivo di altri due mutanti, Tempesta e Ciclope, mette in fuga il bestione e questi salvano sia Marie che Logan. Logan si risveglia alla X-Mansion, una scuola privata per giovani mutanti, dove incontra il professor Xavier. Questi gli spiega di essere anche egli un mutante, un potente telepate, e che ha costruito una scuola per giovani dotati allo scopo di insegnare ai ragazzi ad usare al meglio i propri poteri, anche dal punto di vista etico. Wolverine fa la conoscenza del gruppo degli X-Men, mutanti odiati da quegli esseri umani che loro stesso difendono. Scott Summers, alias Ciclope, il leader del gruppo, che può emettere potenti raggi dagli occhi. Ororo Monroe, alias Tempesta, che può comandare gli agenti atmosferici. Jean Grey, fidanzata di Scott, telecineta, è dotata di enormi poteri telepatici di cui lei stessa ignora le potenzialità. Charles spiega quali sono i poteri di Marie, soprannominata Rogue. Ella può assorbire i poteri degli altri mutanti, ma i suoi poteri sugli umani hanno invece l'effetto di assorbire la forza vitale e la memoria. Xavier spiega a Logan che c'è anche un gruppo di mutanti malvagi, conosciuto come la Confraternita, e di cui fanno parte Eric Lancer, alias Magneto, suo ex amico che può manipolare i metalli. Victor Creed, alias Sabertooth, potente bestione primordiale. Mortimer Toynbee, alias Toad, un ranocchio umano. Raven Darkholm, alias Mystica, una muta forma. Secondo Xavier, Magneto vuole qualcosa da Wolverine e chiede al mutante di combattere al fianco degli X-Men, promettendogli di rivelargli tutto sul suo passato, di cui Wolverine non ha più memoria. Rogue, intanto, inizia a frequentare anche lei le lezioni alla X-Mansion e qui conosce John Allerdice, un giovane mutante con poteri pirocinetici, e Bobby Drake, in grado di manipolare il ghiaccio, dal quale rimane attratta. Il senatore Kelly, nel frattempo, viene rapito e portato nel covo di Magneto sull'isola di Genoscia, dove questi gli mostra un macchinario da lui ideato, che è in grado di trasformare gli umani in mutanti. Kelly viene usato per testare la macchina che gli conferisce la capacità di rendersi liquido. Con i suoi nuovi poteri, Kelly riesce a fuggire. Quella notte Rogue sveglia Wolverine mentre sta avendo un incubo sul suo passato, e in quel momento Logan si sveglia, trafiggendola con i suoi artigli. Rogue, però, riesce ad assorbire per un breve momento i poteri rigenerativi di Logan, salvandosi la vita. Poco dopo, Mystica, assumendo le sembianze di Bobby, le rivela che Xavier è arrabbiato con lei e che dovrebbe lasciare la scuola. Charles, venuto a sapere della fuga di Marie, la rintraccia usando Cerebro, un apparecchio che estende i suoi poteri telepatici, e gli X-Men si dirigono alla stazione del treno per recuperarla, nel mentre però Raven accede a Cerebro e sabota il macchinario, in quanto è stato costruito sia da Charles che da Eric. Logan riesce a trovare Marie e a convincerla a tornare, ma in quel momento giungono Magneto con la sua confraternita, e nonostante l'intervento di Xavier, che prova a controllare a distanza le menti di Sabertut e Todd. Wolverine è costretto a lasciare la ragazza alla mercè della confraternita, quando Magneto minaccia la vita delle autorità giunte sul posto. Charles prova allora a usare Cerebro per individuare Eric, ma il virus posto nella macchina da Mystica lo fa cadere in coma. Successivamente, Kelly giunge al maniero in cerca di aiuto e, sotto gli occhi inorriditi di Ororo, la sua mutazione accelera esponenzialmente fino ad ucciderlo. Gli X-Men scoprono così che la macchina di Magneto può trasformare gli umani in invertebrati che muoiono nel giro di poche ore, poiché il loro corpo non è in grado di reggere il gene mutante. Wolverine capisce quindi che in realtà Magneto vuole Rogue per sfruttare il suo potere. Usare la macchina lo ha quasi ucciso, pertanto Eric vuole passare i suoi poteri a Rogue e usarla per dare energia alla macchina. Gene allora ha giusta Cerebro e, con un immenso sforzo, usa i suoi limitati poteri telepatici per localizzare Magneto. Egli si trova sulla Statua della Libertà, dalla quale potrà attivare il suo macchinario e mutare milioni di persone nel centro di New York, tra cui tutti i potenti della Terra riuniti ad un summit per l'approvazione della legge sulla registrazione dei mutanti. Wolverine si unisce così agli X-Men e il gruppo parte alla volta di Liberty Island, dove ad attenderli ci sono i mutanti della confraternita. Nella battaglia seguente, Toad viene folgorato da tempesta, mentre Wolverine riesce a sconfiggere mistica, riconoscendo il suo odore grazie al suo olfatto sviluppato, per poi affrontare Sabertooth in un violento corpo a corpo, dal quale esce vincitore con l'aiuto di Gene e Ciclope. Successivamente Scott riesce a colpire Magneto e Logan trasferisce i suoi poteri a Rogue per rinvigorirla. Ripresosi dal coma in contemporanea con Charles, Wolverine parte per Alcali Lake, luogo dove crede di poter trovare indizi sul suo passato. Mistica finge di essere il senatore Kelly, mentre il professor Xavier va a far visita a Magneto nella sua prigione di plastica. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.